Quello che conta è che ovviamente non dobbiamo forzare la partita, dobbiamo forzare la partita mantenendo l'equilibrio. Io non penso che sia necessario segnare necessariamente nei primi minuti per avere più chance. Io mi sono fatto tanti film, sono un sognatore su certe cose, mi rivivo tante situazioni, le sogno anche, ma è possibile pure che la Fiorentina faccia un gol allo scotere il primo tempo, all'inizio della ripresa, che l'avversario possa rimanere in dieci, che ci possa essere un calcio di rigore, ci sono una torreta, perché no? L'abbiamo quasi mai segnato su una torreta, su una deviazione, esiste tutto, ma l'importante è mantenere l'ottimismo, avere fiducia, sapendo che dobbiamo correre dei rischi, ma rimanendo sempre in partita fino alla fine. Questo sarebbe il primo passo, poi per il resto si potrebbe vincere anche 5-0, perché no? Sì, le semifinali sono importanti, difficili, e secondo me questa vale anche tripla, perché ci sarebbe eventualmente la possibilità di cedere alla Champions League, quindi comporterebbe una programmazione anche economica diversa, a parte di tutti, quindi ci teniamo particolarmente, però per fare la storia bisogna crederci intimamente, quindi io batto su quello e dovrò cercare di convincere i calciatori tutti insieme di fare questa impresa, che secondo me è possibile.